In un momento di crisi e in un territorio che vive costantemente in emergenza sanità diventa indispensabile la formazione di una figura professionale che abbia capacità gestionali ed amministrative tali da poter sopperire alle eventuali difficoltà e problematiche. Il manager sanitario, tale figura professionale che si delinea attraverso un mirato percorso formativo ha un'elevata competenza nel settore sanitario con una specifica attitudine a ruolo manageriale inteso come un sistema di servizi basato sui principi della qualità dell'efficacia, dell'efficienza e della trasparenza. L'idea del convegno dal titolo L'importanza del management in sanità che si è svolto perso il circolo Sporting Club di Vianicotera a Nocera e Inferiore nasce dall'idea del direttore del poro universitario UNINT della sede di Pagani l'avvocato professore Alfonso Mauro Grillo per presentare il primo di una serie di progetti facenti parte dell'offerta formativa della Facoltà di Economia degli Studi Internazionali di Roma a cui il polo di Pagani fa riferimento. L'offerta formativa della UNINT non può non adeguarsi alle recenti innovazioni normative secondo la legge 43 del 2006 potenziando quindi il proprio piano di studi grazie ai vari percorsi volti a creare il manager sanitario.